Due splendide vacche maremmane che nella memoria dei meno giovani ci riportano all'antica tradizione contadina del nostro paese le vette del boi facciamo un bel applauso a animali e condottori è uno spettacolo bellissimo protagonisti essenziali del nostro palio e anche loro hanno avuto il loro giro d'onore adesso andremo a dividere le legna per il gioco successivo naturalmente non è quello che sta sotto è un bel applauso Claudio tu ridi ma puoi fare cambio tu sotto e lui sopra caro amico mio Ciuchino devi avere pazienza e lui sopra Grazie a tutti. Grazie a tutti.